Su fondo precedentemente trattato con Nova Primer in tinta, applicare dune con rullo a pelo corto, sino a copertura totale della superficie. Ad asciugatura avvenuta, applicare un altro strato di dune con la stessa metodologia. Prima dell'essicazione, passare con spatola inox o di plastica, procedendo per piccole porzioni, con movimento diagonale in entrambe le direzioni di lavorazione, sino a creare l'effetto desiderato. Proteggere con una o due mani di clear coat nel caso in cui sia richiesta una totale lavabilità della superficie.